Mr. B è proprio un gran fico Peccato che lui vuole farsi April No, non è vero, perché l'ho pensato? Signor Morrison, considerato il supporto che riceve dalla comunità la corte è incline a concederle un'ultima possibilità per cambiare stile di vita Cerca di non frequentare Fred Dai Fred, non puoi stare qui Te ne freghi di tutto Vorrei tanto fregarmene di tutto Questa festa fa schifo Sono più grande, so che non ci sono tante cose belle in giro Ma tu sei di certo una di quelle Perché vuoi cercare a tutti i costi di sembrare matto? Per voi è così carina? Sì, è carina Secondo me non lo è Ho dato un'occhiata al tuo compito Bastava che lo correggessi Non dovevi riscriverlo da capo Stai attraversando il tunnel della morte Sei giovane, non sai perché fai qualcosa Ma c'è sempre un motivo C'è sempre un'occhiata al tuo compito